Questa è la storia di un chicco di caffè nespresso che diventerà un chicco di riso. Un racconto che parte dalle coltivazioni sostenibili. Una storia in cui il protagonista sei anche tu. Perché ogni volta che riporto le mie capsule usate, l'alluminio può trasformarsi in nuovi oggetti. E il caffè residuo viene usato come compost in una risaia italiana. Così, grazie a te, il chicco di caffè diventa un chicco di riso che nespresso compra e dona a chi ne ha bisogno. Grazie al progetto di economia circolare da chicco a chicco, ogni volta che assapori il tuo nespresso e che ricicli, fai in modo che un chicco di caffè si trasformi in qualcosa di più grande. È una storia di rispetto per il pianeta, che possiamo riscrivere ogni giorno, insieme. Nespresso. What else? Grazie.